Leo Castiglione si conferma sindaco di Ortona con 5.663 preferenze pari al 51,11% superando al ballottaggio Ilario Cocciola che ha totalizzato invece 5.416 voti pari al 48,89%. Nel primo turno Castiglione che ha guidato l'amministrazione comunale negli ultimi 5 anni ha avuto il sostegno delle liste, il comune delle idee, la città ideale, Ortona civica, Forza Leo per Ortona, cittadini consapevoli, Ilario Cocciola sostenuto da Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Unione di Centro, Ortona Cambia, Democratici per Ortona, Ortona Territorio. Al ballottaggio si è apparentato con le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Di Nardo. Nonostante l'apparentamento con il candidato sconfitto di centrodestra Angelo Di Nardo con Ilario Cocciola che aveva suscitato scalpore, Castiglione è comunque riuscito a prevalere in un testa a testa che si è concluso con uno scarto di 247 voti. Dieci seggi in Consiglio Comunale per Castiglione che dunque è confermato sullo scranno più alto di Palazzo di Città. Quattro vanno invece alle liste di opposizione. Esiste qualcuno al di sopra di noi, esiste una giustizia e credo che sia stata fatta giustizia perché ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto verso sia i cittadini sia verso i miei candidati. La mia squadra ha detto Castiglione commentando il risultato elettorale. Ringrazio gli 80 candidati, a loro va il mio ringraziamento per quello che hanno fatto. Sarò il sindaco di tutti, anzi prima di quelli che non mi hanno votato. Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere ma per amministrare. Per fortuna questo non è accaduto perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere ma sicuramente non amministrare la città.